E Michele Puglisi, il vincitore assoluto del terzo slalom Città di Altomonte, gara automobilistica, quest'anno unica di Coppa Italia in provincia di Cosenza e Giro di Boa per lo Challenge Slalom Calabria 2022, nonché Coppa di Zona AC Sport. La manifestazione, perfettamente riuscita e senza registrare incidenti, risulta la gara slalomo più partecipata che ha contato ben 109 iscritti e la presenza di due donne. Un'ottima gara organizzata nel migliore dei modi, percorso davvero molto bello, veloce, che da subito si è adattato alla nostra macchina. Per noi questa era una gara test dove abbiamo provato alcune soluzioni che vedremo se ci porteranno cose positive lungo il percorso del campionato italiano. Al momento ci troviamo in seconda posizione e speriamo di poter lottare nelle ultime quattro gare. Non ci sono stati inconvenienti neanche sul percorso, nemmeno un incidente, mi piace ribadirlo, quindi percorso reso sicuro dall'ottimo lavoro che si è svolto in sinergia con l'amministrazione provinciale, sicuramente grosso supporto da parte dell'amministrazione comunale di Alto Monte.